Sto ispirando, non so, ma l'amma, vai dimmi che vedete contro il posto. Buongiorno! Che bello! Alla faù! No! Alla faù! 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 Allora, ci stanno questi e le margine. Ci sono questi due peccine che non si muovono. Perché non si muovono? Adesso lo so! Stanno giocando le peccine! E libe! E libe! Loro tubiamo arancetriolo. Ne abbiamo di varico rosso. Poi questi li avete più o meno rosso. Che sono dei peccine. Si chiamano saradi. Ma sono dei saradi che hanno i peccine colori, delle differenze. Questo è il saranaggio che ha la pittetta gianca. Il saraco spagagnone che ha le righe verde. Vivo! In come la caramella? Sulle rocce. Sulle rocce. C'è un rimicuso. Non è un pesce. Ma è di colore anche diverso. Perché questi di che colori sono? Che sono le branze. Noi abbiamo i polmoni. Mentre loro hanno un sistema americano diverso. Le branze che prendono l'ossigeno dall'acqua. Perché sono di pesce. E anche l'acqua. Allora, il pesce morena. Guardate che fa. Il pesce morena si chiama morena elena con la mutina con l'acqua davanti. E guardate, mentre gli altri pesci non aprono la bocca così tanto, il pesce morena ha una branca, un buchetto piccolo per respirare. Quindi è così. Perché sta bene. Essendo un animale che resta sempre sotto lo scoglio, ci vive bene. Fa la sentinella. Fa la sentinella. Guarda l'uomo. Fa qui. Fa qui perché quelli grandi possono stare tranquilli. Ma che sono belli. Allora, questi pesci sono molto comuni. Quella più argento è l'orata. E l'altro pesce è una specie di mutrino. Il dentice scusate. C'è il dentice e il patro. Una lezione meno patro così possiamo dire. Che è del dentice. Forse. Forse. In realtà questi sono due animali che vengono qui. Ma guarda, non è così. ... Cos'è? Cos'è? Oddio! Mamma mia quanto ci vuole veloce! Va bene, ho un po' di sfoglio. Oh mio dio! Ma questo se è terra! E' perchè fuori si è il pradone. Ha detto... Ho di vista la terra, non basta. E' come qui invece. Venite che faccio vedere la polpessa. Allora, la propensa è molto bella quando nuota, non ha nulla a che vedere con il corpo, pesce. Allora, qui questi sono i più piccoli pesciolini dell'anguario. Qui sono i più piccoli pesciolini, però anche qui c'è un impugno, un animale che non c'è. Questo è il verde. Si, 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 è un interseparato. Si chiama spirograto. Di solito, ma non so se vedete un documentario, il periodo d'Occaluccio Marino vive tra questi spirograti. E' abbastanza comune. In alcune zone è diventatissimo, dove lo guarda tutto giusto. E' un animale speciale, si costituisce man mano che l'animale cresce. E questo non è un fiore, non è un animale, ma è un animaletto. A spirograto. Questi sono i figli di quella che hanno liberato... No, questo è un altro animale, è un prostagio. Non possiamo immaginare quanti animali ci siano nel mare. E' incredibile. Di tutti i tipi. Qui abbiamo, anche qui, quel che sembra, quanti pesci, quel che sembra fermo. In realtà sono tutti animali. Intanto, vedete, la rubanina? Sì, sì. Quella si chiama l'animale. E quello si chiama l'attezza di mare. Ovviamente perché c'è un sfondo bianco. E questo non è sui figli. Guarda, questo non è sui figli. È veronica, ti stanno mettendo la pane? No, a me no. Ah. Sono venuta a cuora di mettermi qui di là. Guarda che bello! Guarda che bello! Guarda che bello! Questo è il nostro pane! Guarda che bello quello. Tu scusa, voi! Ma sono senza occhi questi qua! No, non lo vedi che ce l'ha? Arrancione? Quello giallo l'ha visto? Ah, Veronica, quello giallo l'ha visto? Ma guarda un po'. Ma questi sono proprio belli, oi? Sì, sì, assurda.